Inter però che a volte sembra volersi mettere nei guai da sola Dunfris Si muove Lautaro, cercato e trovato Sguardo in area, poi trova Lukaku Guarda la porta, cross morbido GUSENZ! Robin GUSENZ! La ribaltata all'Inter Si fa male ma soprattutto fa 2 a 1 Un altro gol alla Lazio per Robin Gossens